La sostituzione etnica, che in realtà è grande sostituzione, è una formula inventata da uno scrittore francese che si chiama Renaud Camus, che non è nazista, è ebreo, per giunto è omosessuale. Quindi è lettore di Elishlein, secondo loro, no? In teoria. Teoricamente, perché ovviamente oggi uno non può esercitare le preferenze sessuali che vuole. Nel mondo meraviglioso della libertà tu sei omosessuale se voti e pensi certe cose. Se uno è omosessuale per i fatti suoi, però pensa che le questioni LGBT, come le trattano, siano delle stupidaggini, allora non va bene. Allo stesso modo, se sei nero, però voti a destra, non vale. Ti cancellano dalla neritudine. E allora è una questione, ripeto, di mera statistica. Renaud Camus dice, io ho visto questa cosa guardandomi intorno in metropolitana. Io non sono razzista, per niente. Penso che il razzismo biologico sia una stupidaggine. Penso che non esistano razze superiori. Dubito che esistano razze umane, perché la diversità biologica non è sufficiente, a differenza che nei cavalli, nelle mucche, nei gatti, a differenziare gli uomini sulla base di razze. Tra l'altro, il razzismo biologico, cioè la superiorità razziale, è un portato dell'illuminismo, del positivismo, del progressismo, della sinistra storicamente. L'eugenetica, che poi verrà tanto bene applicata dai nazisti, l'ha inventata un cugino di Darwin. Lo stesso Darwin, eroe per un po' della sinistra, che è sempre migliore, si sceglie. Tra l'altro Darwin, eroe della sinistra, poi vedi la sinistra e dici, sì, quella selezione della specie, c'è qualcosa che non funziona. Per cui la grande sostituzione è questo il punto. E' una questione, noi dobbiamo pensare, la sinistra di oggi, progressisti, che non sono la sinistra, non sono il PD, sono quest'idea liberale, a un certo punto tutti negli anni 90 erano tutti liberali. Liberalismo e progressismo sono uguali. Nascono dalla stessa matrice. Liberalismo e comunismo nascono dalla stessa matrice. Dall'idea che il progresso possa salvare l'uomo. Che non c'è bisogno di Dio, l'uomo si può salvare da solo, si può sostituire a Dio. Questa è la grande promessa di entrambi. Che si riempiono entrambi la bocca della parola libertà. Poi la libertà è fino a prova contraria, cioè fino a quando non te la tolgono, come i soldi dell'Europa. Non ci sono mai fino a quando ci sono. Per fare quello che serve a loro. Questa roba qui, che è estremamente pericolosa, perché finché ci sono i mostri totalitari del Novecento, allora è un'alternativa piacevole. Quando non ha più concorrenti, il liberalismo diventa il liberalismo reale. Cioè quello di oggi, sempre più intollerante, sempre più irrispettoso della popolazione, che alimenta minoranze tiranniche, ossessionato con delle questioni del tutto laterali e marginali. e si basa sull'idea che tutto è artificiale, che il passato non esiste, che comunque il passato non conta, che la tradizione non vale niente, che quello che arriva domani è meglio di quello che c'è oggi, perché arriva domani ed è nuovo. C'è gente che difende appunto la carne artificiale senza sapere che cosa sia, senza avere letto mezzo rapporto, senza avere letto mezzo dato, solo perché è una cosa nuova, è la scienza. Elogiano la scienza, senza sapere che la scienza non è un'entità, ma è un metodo. La scienza è un metodo, che ha inventato un italiano, che si chiama Galileo Galilei, e dice che se io faccio cadere questa penna, e questa penna cade, formulo una teoria e dico, secondo me se lascio la penna, la penna cade. Se a un certo punto questa penna rimane a mezz'aria, e io continuo a dire che la penna cade, non sto facendo scienza, è ideologia. Questa penna che rimane a mezz'aria, e io che dico che la penna cade, è uguale a dire non ti vaccini, ti ammali, muori. Basta una dose. I tifosi della scienza sono riusciti a sostenere che una tessera, nemmeno fisica come questa, perché almeno la tessera della libreria Feltrinelli, così si vede l'unica tessera che ho, una tessera come questa, con un QR code sopra, garantiva la guarigione, o l'immunità dalla malattia. Una tessera. O che potevi viaggiare. Cioè è scienza? È scienza che tu scarichi un foglio e sei al riparo da un virus? È come dire, fai una firma contro l'AIDS. Più o meno l'effetto è quello, sai che gliene frega l'AIDS, che tu hai firmato. E questa ideologia qui sostiene che non esiste nulla alle nostre spalle. Che l'Europa non esiste, che è un'espressione geografica, che se io prendo dieci milioni di africani e li metto dentro l'Italia, è uguale. Ma non è uguale. Per lo stesso motivo per cui voi tenete all'autonomia e io no. Perché voi siete nati qui, avete respirato quest'aria qua, avete visto un panorama diverso dal mio, avete una cultura differente dalla mia. Poi, tra me e voi le somiglianze sono più delle differenze. Ma tra me e un nord africano le differenze sono più delle somiglianze. E non sono differenze soltanto politiche o religiose, sono anche differenze etniche e culturali. I popoli esistono e hanno un'anima. E uno può anche non credere nella metafisica e nel soprannaturale. Ma l'anima del popolo c'è e si può anche vedere, no? La tradizione si può vedere. Quando mia nonna era viva e faceva, essendo nato io Emilia, vedevo fare i cappelletti e lei mi diceva perché, le dicevo, perché nonna fai questa cosa? E lei mi rispondeva perché si fa così? che non vuol dire niente, ma vuol dire tutto, vuol dire c'è una cosa inspiegabile che io non ti so dire che è la tradizione perché generazioni prima di me facevano così e io l'ho visto fare e non so esattamente perché si faccia ma so che si fa così e quello è giusto perché è giusto perché da millenni facciamo così o da centinaia di anni e se abbiamo fatto così per centinaia di anni forse una ragione c'è forse ha più senso anche a logica anche usando la ragione non usando la fede o il sentimento la ragione di cui tutti gli uomini sono dotati forse è statisticamente più facile che una roba che è funzionato per duemila anni funzioni meglio di una che ci sono inventati da quindici o da uno o da due o da tre o perlomeno ne possiamo parlare non che arrivi e dici che quella è se io sostengo una cosa differente sono un nazista l'intollerante sei tu e non sei il vero fascista sei peggio comunista liberale oggi viviamo nel liberalismo reale quando c'era l'Unione Sovietica si diceva il socialismo e il socialismo reale per dire c'è il socialismo dei libri quello bello e poi c'è il gulag oggi è il liberalismo reale intollerante razzista che disprezza i popoli che distrugge le nazioni e le culture che impoverisce la classe media criminale questo è e chi non lo contrasta è complice grazie a tutti